Ebbene sì, ho finalmente iniziato L'Honor Life in Another World e devo dire che non è quello che mi aspettavo ma diventa prevedibilissimo subito dopo. Prima di iniziare questo breve video, come sempre, ciao ragazzi, io sono Axel e sono qui oggi per dirvi la mia sui primi tre episodi di questo nuovo isekai chiamato appunto L'Honor Life in Another World, ovviamente cercando di mantenere la soglia degli spoiler al minimo possibile. Devo dire, per essere del tutto onesto, che l'ho iniziato proprio con il solo scopo di farci un video per parlarne, ovviamente cercando di mantenere i pregiudizi al minimo, e in questo stesso video cercherò di essere il più onesto e corretto possibile, raccontandovelo non solo per quelli che sono i miei gusti ma usando un minimo di occhio critico così da poter essere quanto più completo per questo breve contenuto. Ovviamente prima di tutto parliamo della trama e di come questa storia ha inizio. Ci viene presentato questo ragazzo di nome Aruka all'interno della sua classe in cui si sono formati dei gruppetti, ci sono gli otacule, Ghiaro e così via. Egli è fiero di non far parte di nessuno di questi gruppi e continua la sua vita da solitario sin quando compare a terra il cliché per eccellenza, un cerchio magico che lo evocherà in un altro mondo insieme a tutta la sua classe. Egli cerca in tutti i modi di scappare ritenendola una seccatura ma viene ai miei coinvoltosi in troppo tardi, infatti quello che dovrebbe essere il dio di questo nuovo mondo, più strano del solito, degno di una parodia. Gli mostra tutte le abilità disponibili rimaste, ovvero le peggiori. Una cozzaglia di apparente immondizia che viene lanciata praticamente addosso ad Aruka per toglierselo di torno. Di conseguenza sappiamo già che le abilità migliori sono andate ai suoi compagni. Una volta in questo nuovo mondo il suo unico obiettivo diventa conquistarlo, potendo vivere come vuole senza che nessuno gli dia ordini. Ovviamente in completa solitudine. Si accampa nella foresta iniziale in cui si crea una piccola base e vi decide di restare per un po'. I suoi compagni che sono arrivati prima di lui scopriamo cosa hanno fatto nel frattempo solo nel secondo episodio, in cui ci viene mostrato molto meglio anche il potenziale di Aruka e proprio qui mi verrebbe da dire che non ha preso davvero delle abilità scadenti. Forse lo saranno prese singolarmente o piccoli gruppetti, ma in realtà neanche tanto se si pensa che una delle sue abilità sono delle lenti a contatto che dovrebbero solo migliorare la vista. Sulla carta, mentre in realtà servono a sostituire la classica abilità di valutazione presente in tantissimi altri fantasy. Perché dico che è un'abilità niente male? Basti pensare che esiste un Isekai in cui il protagonista ha solo quell'abilità e ci governa tipo un paese. Quindi definirla uno scarto e un tantino un bait, ma vabbè. I primi tre episodi sono un buonissimo inizio per un Isekai, soprattutto considerandolo solo, dico sempre, ma è vero, il livello medio degli anime di questo genere e devo dire che questo non mi è dispiaciuto per niente. A parte il primo episodio, che trovo molto sottotono rispetto agli altri due, mi sta più che piacendo ed intrattiene benissimo. Ciò che davvero mi dà fastidio invece è che l'idea alla base immagino sarebbe dovuta servire per mostrare un qualcosa di diverso dal solito, ma invece abbiamo nuovamente un protagonista che non è debole e non ha abilità deboli che sfrutta bene, perché abilità simili sono tutt'altro che deboli e, scusate se per qualcuno è spoiler, un anime di ragazze che già adesso in un solo episodio appendono dalle sue labbra, posso solo immaginare cosa vedremo entro la fine della stagione. Nonostante queste mie parole, però, lo consiglio tanto soprattutto ai fan del genere perché a livello tecnico è molto valido ed è scorrevole. Ho notato davvero pochissime sbavature nelle animazioni o forse mi sto solo costringendo ad abituarmi avendo abbassato i miei standard inconsapevolmente, chi lo sa. Ma in generale è proprio un buon anime Isekai che fa il suo e si lascia guardare. Attenzione, non è un capolavoro. Sarebbe forse stato meglio si concentrasse di più sullo sviluppo della sua vita da solitario, per almeno un episodio in più prima di renderlo il tipico fantasy con il protagonista che diventa avventuriero in tempo tipo tre episodi. Però ne abbiamo davanti ancora altri nove, chissà cosa ci mostreranno, spero che pian piano diventi il meno criticabile possibile. Ma voi invece cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti nel caso lo abbiate già visto, oppure tornate qui dopo esservi messi in pari così da lasciarmi un feedback al riguardo perché sono molto curioso. Io personalmente dal trailer gli avrei dato forse mezza lira, invece non lo trovo affatto male. Ebbene per oggi vi ho detto quello che volevo, se il video vi è piaciuto, vi ha aiutato a interessarvi all'Honor Life in Another World o semplicemente vi ha fatto compagnia per qualche minuto, mi fa tantissimo piacere. Non dimenticate come sempre di iscrivervi nel caso non lo siete per non perdervi i prossimi video che usciranno e di seguirmi su tutti i social che trovate in descrizione. Detto questo, noi come sempre ci sentiamo, al prossimo video. Grazie a tutti.